C'ho aperto, ho paura! Dunque, c'è una luce accesa in camera della Barbie Eh dai, c'ho paura! E' capo mio, Stella! Eh, ma di... ma... Ah, prima, per favore, dite un altro! Ma perché? Perché ho perso e scusa! Ma sei scema! Barty, come si accende? E non si apre? No, serio? Perché? Barty, non lo so, è camera tua! Non è camera mia! Oh dai, sono andanzi anche a me, cretina! Perché non si apre? Dai, non c'è nessuno, apri sta porta! Ma perché devi dire così che ho paura? Eh, ciao, c'è qualcuno? Fantasmino? Non c'è neanche la porta! Devo pensarci io, te l'apro! Ma sei rotta! Come se ci fosse qualcosa... Non c'è niente dietro, apri sta porta! Come fai? No, la rompi così! Ma... Io non dormo stasera, te lo dico... Io non dormo! Io sto male! Allora, chi c'è? C'è Jason? Hai! Jason! Adesso deve scrivere lo Stato! Ciao! Ciao! Ciao!